Cassa integrazione per i 110 lavoratori della Tecnocol, l'azienda ha richiesto l'attivazione della cassa ma non si intravedono spiraglie all'orizzonte per i lavoratori impiegati per conto di accea nei servizi all'utenza e coinvolti nell'avvertenza nazionale legata alla chiusura del mercato tutelato per l'energia. In senato è in corso la discussione della conversione legge del decreto energia che non ha la clausola sociale che invece avrebbe tutelato questi lavoratori come chiesto dai sindacati. Noi insistiamo per l'applicazione della clausola sociale quindi richiediamo nuovamente a tutte quante le istituzioni l'impegno per l'applicazione della clausola e quindi del 36 terre che avevamo costruito con tanta fatica. Abbiamo fatto un periodo di cassa integrazione antecedentemente nel 2023 adesso l'azienda ha richiesto al ministero un incontro per procedere con la cassa inderoga al fine di tutelare la salvaguardia del perimetro occupazionale per tutto quanto il 2024. Il rischio è quello del licenziamento collettivo mentre l'azienda si è vista costretta a chiedere la cassa integrazione straordinaria come precisato dall'amministratore delegato dell'azienda Francesco Ranalletta. Già dallo scorso anno i lavoratori erano in cassa integrazione ordinaria a rotazione sia ora in attesa dell'approvazione poi si siederà a tavolino per stabilire la durata. I 110 lavoratori da tempo stanno portando avanti la loro battaglia per chiedere aiuto. La loro vertenza è finita sul campo dell'Aquila 1927 prima di una gara, sul tavolo del cardinale Petrocchio e su quello di tutti i politici compreso quello del premio Armeloni della città intera perché ci sono dietro altrettante famiglie che non vedono all'orizzonte, è un futuro rosio. Non c'è assolutamente la possibilità di perdere nessun posto di lavoro e soprattutto ricordiamo che è un lavoro che rispetta la dignità delle persone quindi ci deve essere un impegno da parte di tutte le forze politiche e della città come comunità intera che faccia risvegliare il sentore della problematica in essere perché non si può perdere neanche un posto di lavoro perché non c'è possibilità di ricollocazione.